Casa Rano, via Curti Madama. Qui ci sono stati degli incidenti, sono caduti dei calcinacci, sono intervenuti i vigili del fuoco, hanno fatto delle riparazioni, però poi è tornato tutto nella normalità. Le alte sfere non ci prendono neanche in considerazione. Quelle che vedete sono abitazioni di Arca Sud Salento. Con grande rispetto per quello che succede nei luoghi di guerra vera, i residenti dicono che sembra loro di vivere in case bombardate. Di sei edifici, quattro sono stati sistemati tre anni fa, gli altri due, dicono, sono completamente abbandonati. È stato invitato a effettuare un sopralluogo il consigliere regionale Paolo Pagliaro. Noi continuiamo questo nostro percorso, andiamo a verificare le criticità che ci sono nell'intero territorio, diciamo in collaborazione con Arca Sud, perché devo riconoscere che c'è sempre una pronta risposta ogni volta che sollecitiamo un momento oggettivo di criticità. All'esterno la situazione è più che evidente. Muri scrostati, calcinacci che in varie occasioni sono venuti giù. All'interno infiltrazioni ovunque. Muffa che rende insalubri gli ambienti. Manca la manutenzione ordinaria e va da sé che servano anche interventi straordinari. Non c'è più la porta. E la porta non c'è. Che cadeva? Che cadeva. E l'ho dovuto togliere. Affare da Cicerone, Laura Parrotta, coordinatrice cittadina del Movimento Regione Salento. Sì, siamo stati sollecitati da questo gruppo spontaneo di cittadini ad intervenire in questa situazione che oggettivamente è una situazione disastrosa. Stamattina abbiamo potuto verificare di persona quale sono le condizioni di questi appartamenti. In realtà necessitano di un intervento urgente. Di qua, poi, poi, sopra, sopra, sul tetto, qua dietro, se tiro fuori i mobili qua, guarda là sotto tutto. Come per ogni sopralluogo il consigliere si impegna a segnalare innanzitutto le priorità, gli interventi urgenti non rimandabili, senza tralasciare ovviamente la situazione generale degli immobili. Non ci sono manco riscaldamenti da 40 anni che abito qua. Noi dove c'è la priorità subito interveniamo e chiediamo risposte immediate. Nei prossimi giorni continueremo questo nostro percorso. Avremo già delle risposte sulle sollecitazioni precedenti, dopo i nostri sopralluoghi a Sogliano, a Galatina e a Surbo. E anche a Casarano penso che ha meriti grande attenzione perché la situazione è sotto gli occhi di tutti. E mentre Pagliaro era in via Curti-Madama a raccogliere le lamentele e le richieste dei residenti, sono arrivati altri cittadini chiedendogli di seguirli 300 metri più in là, nelle vie Marche e Abruzzi, sempre alloggi cosiddetti popolari. Scenario disastroso. A partire da quello che dovrebbe essere lo spazio verde che circonda le palazzine. Erbacce altissime, rifiuti di ogni tipo, anche bruciati, ovunque. Che sono lì da tantissimo tempo. Si nota dal fatto che sono stratificati anche sottoterra. Materiali di risulta, pneumatici, immobilia. La mamma di una bambina che fa parte della famiglia di cuore amico ha spiegato il come tenga la figlia ormai segregata perché non può farla scendere a giocare nell'immondizia. E, non ultimo, il nemico invisibile. La mancanza di acqua. È stata tagliata a causa di alcuni inquilini morosi. Ci si arrangia come si può, con cisterne e bidoni. Ma non basta. Pensare di essere in Italia è complicato davanti a questo degrado. E a causa di morosi poi l'intera comunità di questa zona è senza acqua. E questa è una cosa che va affrontata assolutamente perché c'è una questione di carattere sanitario, igienico, oltre a un problema di civiltà. Non è pensabile che si possa lasciar vivere in queste condizioni i cittadini. Impegno preso con queste famiglie e tutti i residenti. Ci faremo portavoce, ha detto, del disagio che abbiamo riscontrato e dialogheremo con Arca Sud Salento per capire insieme le priorità di intervento.